Quarto forum, Ingegneria 4.0, si è svolto quest'anno a Reggio Emilia, al Tecnopolo e anche qui alla Fondazione Reggio Children, un luogo molto importante per quello che riguarda la formazione, la formazione dei più piccoli, dei bambini, ed è un luogo anche entusiasmante per questo. Abbiamo fatto formazione, abbiamo raccontato con il forum quelle che sono le problematiche e le soluzioni che si pongono di fronte agli ingegneri e alle società di ingegneria di questi tempi, che sono per noi la digitalizzazione, il fattore umano e il fare sistema, se volete fare ecosistema. Sono stati due giorni molto intensi, nei quali al forum precedente abbiamo aggiunto la presenza delle start-up innovative del settore dell'ingegneria civile. Sono molto soddisfatto di questo, perché grazie a loro abbiamo svecchiato abbiamo ringiovanito il mondo dell'ingegneria civile e abbiamo dato anche quel senso di interesse che forse in molti giovani manca nel intraprendere una carriera universitaria verso questa disciplina. È una disciplina che abbiamo capito da tutti i partecipanti, aziende, società di ingegneria, mondo manifatturiero, mondo del management. È un settore che ha bisogno moltissimo di giovani, ha bisogno di ingegneri. È venuto anche Bebop Gresta, il fondatore di Hyperloop. Giusto per fare un esempio, Hyperloop per diventare un progetto reale ha bisogno di passare dagli attuali 150 ingegneri a 1200 ingegneri. Quindi abbiamo questo problema, abbiamo un problema di avere tecnologia a disposizione, di avere qualcuno che le sappia usare. Il forum è stato un momento molto interessante per tutto questo, al quale abbiamo aggiunto anche tutto il networking e tutta la possibilità tra le società di ingegneria di chiacchierare, di dialogare in ambiente rilassato. Auspico che nella prossima edizione, che sarà sicuramente l'anno prossimo, non sappiamo ancora dove, ma ci sia ancora più partecipazione da parte delle società di ingegneria e degli ingegneri. Perché c'è bisogno di tutti, anche dei piccoli ingegneri. Non si sentano esclusi da questi convegni, da questi simposi, perché sono il luogo dove si fa sinergia. Ecco, questo è il forum e sono molto soddisfatto perché abbiamo fatto un ulteriore passo avanti, per cui vi aspetto anche al forum dell'anno prossimo. Vi consiglio di guardare tutte le registrazioni delle presentazioni che si sono susseguite in questi due giorni, perché troverete cose molto interessanti. La prossima volta invece partecipate in presenza.